Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi per tenervi compagnia voglio raccontarvi di un episodio avvenuto nel 1997 nel corso di una trasmissione radiofonica americana, Coast to Coast, diretta da Art Bell. Non so se lo sapete ma Art Bell è deceduto nel 2018 e questa sua trasmissione radiofonica si occupava di raccogliere le testimonianze delle persone che chiamavano per raccontare di fatti strani, di racconti senza un'apparente spiegazione. Ed è proprio nel corso di una delle sue dirette che Art riceve forse una delle telefonate più spaventose, più strane ed inquietanti di tutta la storia del programma e io questa telefonata volevo proprio condividerla con voi. A quanto pare quella sera fu chiamato da un individuo, un individuo molto molto spaventato, quasi preso dal panico, infatti in alcuni punti era come se volesse letteralmente piangere. Questo individuo disse di essere un ex impiegato dell'area 51 e dopo essersi presentato decise successivamente di fare delle rivelazioni spaventose riguardanti l'area 51 e quello che a quanto pare accade realmente lì dentro. Io oggi volevo leggervi questa telefonata, questa conversazione che Art Bell ha avuto con questo individuo che a quanto pare ha deciso di chiamare a questa trasmissione radiofonica per condividere con il mondo delle verità che anche oggi il governo cerca comunque di occultare perché oggi noi non sappiamo cosa avviene realmente all'interno di queste basi. L'area 51 è quella più famosa ma ce ne sono tante altre. Alcuni parlano di progetti militari molto molto avanzati dal punto di vista tecnologico, altri invece parlano di oggetti appartenenti ad extraterrestri, corpi di extraterrestri che sono stati studiati lì dentro. Io voglio condividere con voi questa telefonata perché penso possa essere uno spunto di riflessione importante e non dimenticatevi di lasciarmi un commento sotto al video scrivendomi tutto quello che pensate. Io direi di cominciare. Sei in diretta? Ciao! Ciao! Art? Sì! Io? Beh, io non ho molto tempo. Bene, allora cerchiamo di capire se stai utilizzando questa linea in maniera appropriata oppure no. Area 51. Ok, ho capito. Nel posto in cui ti trovi sei ancora un dipendente oppure no? E qui ragazzi mi intrometto un attimino per dirvi che Art era abituato a ricevere chiamate di questo tipo non proprio da ex dipendenti dell'area 51 però ecco era una trasmissione che si occupava appunto di raccogliere le testimonianze di persone che parlavano di fatti strani no? Quindi questa sua risposta ok ho capito ecco con questa naturalezza vi fa capire che no era una trasmissione che si occupava appunto di questo di fatti strani inspiegabili. Quindi questo sconosciuto perché noi non conosciamo l'identità di questa persona dice area 51 e Art risponde ok ho capito nel posto in cui ti trovi sei ancora un dipendente o no? Sono un ex impiegato. Sono stato congedato una settimana fa per ragioni mediche. Ex impiegato sto correndo attraverso il paese cavolo non so da dove cominciare loro stanno beh loro stanno loro triangoleranno questa posizione molto molto presto quindi non puoi spendere così tanto tempo al telefono dunque datti una mossa ok quello che noi pensiamo siano gli alieni Art sono esseri extradimensionali con i quali i precursori del programma spaziale si sono messi in contatto. Loro non sono quello che dichiarano di essere loro si sono infiltrati in molti aspetti delle basi militari in particolare in quella dell'area 51. I disastri beh i disastri che sono in arrivo i militari scusami il governo è al corrente della loro esistenza e ci sono molte zone sicure in questo mondo nelle quali potrebbero mettere la popolazione adesso Art ma non stanno facendo beh non stanno facendo niente non lo fanno vogliono che la maggior parte dei centri abitati venga spazzata in modo che i pochi rimasti saranno più facilmente controllabili e qui si ha una prima perdita del segnale Art tenta più volte no di un attimino richiamare l'attenzione di questo sconosciuto e ad un certo punto si sente questo sconosciuto questa voce piangere e poi continua e dice sto sto iniziando a nuovamente il segnale si perde dopo questa seconda perdita del segnale la telefonata si chiude nel senso che ciò che vi ho letto sono le cose che sappiamo questa è stata la telefonata integrale e il fatto che si sia perso il segnale ci fa pensare probabilmente al fatto che la linea in quel punto era caduta lo aveva abbandonato e proprio per questo motivo non aveva più potuto comunicare con la trasmissione radiofonica altri invece pensano che sia accaduto effettivamente qualcosa questo sconosciuto e che sia stato intercettato in tempi record e che qualcuno lo abbia levato di mezzo proprio per punire per quelle dichiarazioni che a quanto pare dovevano rimanere segrete ma c'è una cosa che ha fatto tanto riflettere perché accadere ragazzi quella sera non fu soltanto la linea a perdersi quella sera non fu soltanto il segnale qualcuno potrebbe pensare ad una messa in scena beh dovete sapere che quella sera accadde un altro episodio inspiegabile perché fu la stazione radio dopo quella telefonata ad essere stata messa completamente fuori uso quindi non si concluse soltanto la telefonata ma in generale proprio la trasmissione radiofonica non sono più riusciti a trasmettere in diretta era come se fossero stati messi fuori uso non non potevano più comunicare con le persone e questa ancora oggi rimane una delle telefonate più inquietanti nella storia delle radio trasmissioni secondo voi lo sconosciuto era in buona fede o è stato semplicemente uno scherzo di una persona che in quel momento si è messa in contatto con art bell per raccontare un po un non so un qualcosa di fantastico io non credo che sia stata una messa in scena sono sincera anche perché ci sono tantissime persone che si sono espresse già in merito all'area 51 ed ecco uno che mi viene alla mente in questo momento è bob lazar bob lazar ha fatto delle dichiarazioni scottanti sull'area 51 anche lui è stato un ex impiegato dell'area 51 ed è stato letteralmente perseguitato a causa di un elemento che all'interno dell'area aveva trovato ad un certo punto la sua casa è stata messa a suo quadro insomma se volete che io vi racconti la storia di bob lazar e delle sue dichiarazioni fatemelo sapere anche perché lui molto spesso si è anche messo lì a disegnare questi velivoli alieni quindi potremmo parlare potrei portarvi un approfondimento riguardo alla storia di bob lazar fatemi sapere che cosa ne pensate di questa telefonata davvero misteriosa ed inquietante no perché questo sconosciuto ci parla di loro di questi alieni ostili e del fatto che il governo non è intenzionato a mettere in salvo la popolazione mondiale ci parla addirittura di zone sicure sul pianeta terra in cui si potrebbe andare ad insediare la popolazione ma a quanto pare questa non è l'intenzione di questi governi che da quello che ci è stato riferito lavorano a stretto contatto con queste entità aliene e voi che cosa ne pensate conoscevate già la storia di questa telefonata insomma fatemi sapere tutto quello che volete io per il momento vi lascio qui vi saluto ma spero di avervi tenuto compagnia e di non avervi annoiati vi auguro un buon proseguimento vi voglio tanto bene e ovviamente vi do appuntamento alla prossima